Pari opportunità, direi che proprio in questo film c'è la massima espressione anche nel lavoro che cercate di portare avanti, che state portando avanti. Sì, in effetti il film che abbiamo visto questa sera parla della parità di retribuzione e naturalmente ne è stata fatta di strada perché si è già partita dalle suffragette quando sono state le prime donne che hanno iniziato la lotta sul salario e la parità con gli uomini e in questo film abbiamo proprio visto che 187 donne hanno iniziato a scioperare proprio per avere anche loro lo stesso stipendio che avevano gli uomini perché il lavoro degli uomini era uguale al lavoro delle donne e quindi ci voleva la retribuzione uguale. Andiamo all'attualità appunto perché so che voi avete firmato un importante accordo. E noi proprio come consigliere regionali abbiamo firmato il 30 novembre un protocollo di intesa con l'ufficio scolastico regionale proprio perché secondo noi e secondo tutti bisogna partire proprio dai bambini, dai ragazzi a iniziare a parlare di parità di genere e rispetto perché dai bambini si arriva poi ad avere degli uomini e delle donne che quando saranno adulti non avranno più bisogno di vedere film così oppure leggi che le aiutino ad andare avanti.